Kiro master player Tu di il corto Kiro c'ha un... è lì tutto setupato Con i messaggi Hai messaggi pinnati Centro, destra, cerchio, triangolo Niente, son già volato giù Boh, è buono Abbiamo triangolo Allora, a me serve un cerchio Eh beh, te lo sto già mandando No, stavolta sono volato giù davvero Basta che mili Io ho il cerchio Meto me la vieni a chiudere tu Io ho il cerchio, adesso Sto arrivando, eh? Eh, buvo Il skull cos'hai? A me serve il cerchio Ma vengo a chiudertelo A chiudemela, manda, sed Vado Oh, oh, oh Tu glielo chiudi subito Ah, mi sono andato a chiudere Per generare per gli altri Non l'hanno già presa Eh, abbiamo oggetto Io mando Guarda quante ce ne sono là Sono 16 Più il primo Quadrato servirà a destra Qualcuno chiude a sinistra Mid, no, in mid Mandatemelo Mandate Triangolo dov'è? Eh, aspetta, ho sbagliato Rimandamelo Non posso Eh, aspetta Eh, scusa Se ci dè il nemico potente Sarà dura Il triangolino lì Ti l'hai mandato? Basta, eh Aspetta Mi sono dei triangolini Oh no, aspettate Qualcuno mi mandi in centro, ragazzi Mando Ok, manda ora A sinistra Mando A destra Ok, è chiuso Ti procede Ti va avanti Let's game A me non fa depositare Eh, devi da prima Eh, devi trovare listo Mi dimentico che devo depositare Eh, scusate Attento che adesso fanno una stop Tanto è 3.30 il timer Cascissimo Non serve neanche prenderne troppo Perché tanto Il timer è quella Ma? Non muoio tra la torre Eh, dai Eh, manca uno Ci manca? Tu manca uno o te è bugato come a noi No, c'è, c'è Va, 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 va Qua sed, tu vai ancora a sinistra Quindi quella che va al centro, giusto? Sì Quella che va in alto al centro Ok No, no, quello è terzo Quello è terzo Il secondo è... No, anche qua, anche qua Sì, anche qua Anche... Quelli... Solo loro sono invertiti Allora, allora tu black Fai quella lì Quella lì a destra Io sto qua anche Ok, ok Però devi darmi una mano Col meglio del... Ma forse ce la faccio A quello strantero No, ma forse ce la faccio Allora, vieni a diventare una gold In caramella Ma non ho cambiato super Mi sa che allora si è morto È morto davvero Occhio scusa, questo è il mio Guarda qua davanti Sai chi lui? Ok Qual è il tuo? Io l'ho preso Questo è il tuo Questo qua è vivo L'ho ucciso io Non penso abbiano un lato Ha detto sinceramente Ma vuoi morire? Sto cazzo di... Guarda, manda, manda, manda Ecco qua Ho torno Noi siamo quadrato Ma? Io sono... Come... Come sono morto? Ma... Vabbè Se me l'hai mandata non mi è arrivata Black Non so per quale motivo Ci sei in scuola Comunque Io e cerchio Se vi può interessare Ma è il triangolo Rimandata Medu non sei... Ho mandato, l'ho mandato, l'ho mandato Sto arrivando Serve che qualcuno chiuda da me il cerchio Io sono cerchio, vengo io adesso Rimando e vado a chiudere Scuola è questo il triangolo? Sì è questo il triangolo Eh deve essere Aspetta un altro giro e chiudiamo Arriva Puoi chiudere Simo appena arriva E' il nemico potente ragazzi Si ci rende il nemico potente Ne sarà uno anche Vengo ad aiutarti Scuola Ma la devo rimandare Chiro se me la mandi chiudo Mando E' qua eh Dov'è? è quadrato qua? No no, qua è il cerchio Guardate dall'altro lato Dov'è la piattaforma di sto coso? Scusatemi ragazzi Poi qua Usa che io ero sono un down Qua è il potente ragazzi Qua c'è il nemico potente Se me la rimandi gentilmente Dentro non è chiuso giusto Dentro è chiuso Anche destra è chiuso Quindi manca quello di Skull che è il quadrato Mandate 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 che chiudo No, vado Vado a mandarlo io Mandate che io No, sto andando io Sono andando io Sono andando io E' questa qua Quella al centro Quella al centro Quella In centro Intendevo centro Vedendo la lato Scusatemi Un rest per me Un rest per sed ragazzi No, non ce l'ho Faccio Faccio Che cade nel vuoto sed Dai Asganga Dov'è che siete così? No, dietro 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 Vi ho lasciato una Una torretta Voi siete amanti del rischio Ogni volta che mi vedo sparare Sparate sempre al limite Quando si illumina la fiastra Mi vedo Boh, io sparo mezz'ora prima No, perché non sparate prima Sì, sì Ma anch'io sparo tipo un'ora prima A me piace rischiare Perché il tuo gioco fa schifo King Non so Non è Valorant Che ha i server che funzionano Questo gioco fa bene Rischio Qua Qua andiamo al centro Beh, commettiamo Commettiamo Si direi Nel senso io Al centro o tu te al centro? No, tu te al centro No, tu te al centro Avete Un'alto a destra Io dove devo andare Per accendere quella di sinistra A destra Giusto? No, al centro tu Mi sa Basso a sinistra e centro Sì, scusa Vabbè, sì ragazzi Tanto le facciamo uguali Sì ragazzi Tanto basta che uno le accende via Sì, cazzo Qua io non ho l'ult in realtà Però vabbè Vabbè male che guarda me lo leggete voi Tanto non è che io se ne prego Ce l'ho io Ce l'ho io Ce l'ho io Quanto lo pulisco io? Là mi prendo il Tormentor di sinistra io Sto sparando a quello di destra Non so se sto sparando anche qualcun altro Io sto sparando a quello in centro Quello che è rimasto Eh no, quello in centro è il mio Allora mi serve che qualcuno mi ammazzi questo O che qualcuno legga Sto ammazzando questo che è quasi morto Io vedo quadrato a destra Allora, sono quadrato a destra Triangolo al centro e cerchio a sinistra Che fa a sinistra Manda, manda a sinistra No, questa è mia school Questa è mia Ah Io mando mezzo Mando Mando Manda Credo me l'abbia mandato Black Siamo tutti storti ragazzi Comunque vabbè Io ve lo scrivo Vabbè Vabbè Chiunque 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 Andate Ma un culo ho svegliato uno Dov'è che hai il triangolo? Il triangolo al centro Il triangolo al centro Ma me lo posso chiudere da solo Perché ho sbagliato Prega mando a destra Ragazzi ci sono tre potenti C'è da prendere un cerchio Giusto? Io ho un cerchio Mando a destra L'alto a destra cos'è? L'alto a destra è quadrato E mi sembra un quadrato Ti ha capito Io ho il cerchio Il cerchio dov'è a sinistra vero? Mando Ti mando Te lo mando bravi Abbiamo mandato a destra Sono perro peso Sinistra è chiuso Sinistra è chiuso Sinistra è chiuso Manca il quadrato Manca il quadrato che non abbiamo mandato ragazzi Che è possibile? Eh 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 Qualcuno Con tutto acceso Con tutto acceso Ma i quadrati Chi è che sta facendo la piastra? Vabbè L'ultima che manca ragazzi O l'avete chiuso troppo presto? Avete chiuso senza creare i quadrati ragazzi Cosa che serve? No ce l'ho io uno Ce l'ho io uno Vai a chiudere Vai a chiudere Ok ok E mandatemi il poso Dobbiamo fare il nemico potente Dobbiamo fare il ponente ragazzi In poso il giusto 17 secondi Mandate Mandategliela 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 Ok fatto Il poso Ce l'ho depositato io Ce l'ho depositato io Eravate tutti in mid Potevamo stare qua al deposo Anche le torre Chill Chill No Ho ucciso la mano Ah no Ho ucciso i quadri Ma faccio Un minuto Entra Ma voglio Qualcuno mi resti per favore Io non ho resti No ho resti Anche tanto tanto più Easy Abbiamo fatto solo un giro ragazzi Perché hanno chiuso troppo pasto Si hanno chiuso troppo pasto Si hanno chiuso troppo pasto